Ciao ragazzi, sono io, Ariano, il grande strato è fino a delle montagne della Valle d'Aosta. Siamo in cammino fino a con i militari, il suo ai Patrick, per poter raggiungere una banda molto importante. Queste montagne sono davvero molto speciali, perché io sono un'acqua, come tassi, volvi e marmonze, macchine reali, lupi, le seconde di un paesaggio davvero molto affiato. Sono un'acqua, sono un'acqua, belle semestienne, e altre ancora. Io non mi arrendo mai, allora ne abbiamo vederla che si assi.